Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti in questo canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Fortnite stiamo avanzando alla grande, o meglio, sto cercando di migliorare sempre dal punto di vista di ciò che riguarda la costruzione vi dico una cosa, a volte può capitare che mi sbaglio su alcune cose, però è la concentrazione mentre stai giocando, a volte magari si legge una cosa opposto di un'altra, ma l'importante è essere concentrati sul gioco naturalmente in questo video, un bel commento, un bel mi piace detto questo, ci andiamo a cercare la prossima partita allora, ho visto che, di solito, sotto agli alberi, ci sono dei bei bauletti, dei bei forzierini alle terrove ci stanno, però di solito atterrano sempre in tanti tipo là, però qua è normale che ne sono parecchie sì, ci sta il forziere qua sotto ok dovremmo stare tranquilli, lo becco, lo becco, lo becco, ok oh, bello, anche il fucile, bello, grande, ok ok, ma ce ne sta ma ce ne sta un altro oh, ma che non ci casiamo porca miseria, che culo porca miseria, due ce ne stanno ok, amico devo stare tranquillo che qua mi fregano attenzione attenzione un attimo ok, qua c'è anche un'altra arma porca miseria oh, questa è la troppola nuova che hanno messo una figata pazzesca poi come direi a questo punto che ci vediamo ok, direi che forse potremmo metterlo praticamente anche qua, eh magari così prendiamo qualcuno che entra ok iniziamo magari tipo a berci il succo e vediamo attenzione ok vediamo se qua c'è qualcuno oh, munizioni merci nada ok niente neanche di qua vabbè siamo stati sfortunatini vabbè mi prendo un po' di materiale nella speranza che può servire qualcosa ho visto che è importante soprattutto verso la fine comunque fortificarsi perché a volte ci rompono veramente le schiatole se ci fregano soprattutto là lontano da un lato quindi magari se stiamo tipo all'interno di qualche cosa non è male allora ci tolgo la schiata così ok ma ci facciamo pure il muro di qua tanto ce l'andiamo ci se ne frega ok vediamo se qua sotto c'è qualcosa mi pare che ci siamo ah no non ci sono stato non ci sono oh guarda qui che bel forzile torchia miseria certo non siamo stati fortunati come prima però dai tutto sommato guarda quanto succo ok con calma ok oh mi scordo sempre vabbè mi sa che ce ne possiamo anche andare ok magari ce l'avessimo non ce l'abbiamo vabbè dai non fa niente andiamo su mi sa che non c'è nessuno no no ok andiamoci da qua oh altra arma io quasi quasi la cambio mi sa quasi si qua non c'è nessuno ok credo che siamo liberi da qua wow 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 questa cazzo macchina dove stai oh ok meno male che l'abbiamo fregato oh mi fregano sempre da qua eh mentre sto raccogliendo mi fregano attenzione oh troppo da voi me la becco eh c'ho troppo non so se beccarmi il medikit oppure no vabbè prendiamoci inizio necessario perché non voglio stare parecchio tempo perché di solito mi fregano sempre quando sto parecchio tempo aspetta qua non ce ne sono è strano perché di solito vi dico la verità su questa zona atterrano veramente in tantissimi mentre invece caso strano è stranissimo che ne abbiamo beccati soltanto uno eh cioè mi sto buttando un po' più verso le zone diciamo affollate per cercare di beccare più materiale ma soprattutto perché quando stai troppo lontano dal centro poi dopo mentre arrivi mentre cerchi di costruire qualche cosa capirai cioè non ce la farai mai l'idea è di fare così ci mettiamo qua costruiamo un po' qualcosina tipo una roba del genere e se arriva qualcuno lo freghiamo non la facciamo sempre semplice a volte sapete che cosa mi è successo mi è successo di vedere che proprio molti camminano sul bordo del confine non so neanche il perché vabbè ce ne possiamo anche andare siamo anche abbastanza lontani per cui ci conviene andarcene aspetta aspetta ok me lo becco sempre in legno perché sto cercando di attuare è più una cosa del genere perché è vero che quando poi costruiamo qualcuno ci sgama sempre però siamo comunque abbastanza protetti che partita strana la cosa strana è che mi sono buttato in una zona affollata e per adesso non ne ho visto neanche uno cioè a parte quello non abbiamo visto nessuno mamma mia ok l'importante è che riusciamo ad arrivare alla fine avete visto nella partita di prima abbiamo beccato due forzioni sotto l'albero ma io non sapevo che se ne potessero beccare due contemporaneamente ma non so se andiamo sempre in linee troviamo sempre due oppure è stato gran fortuna sulla letta là pure stiamo bene attenzione qua perché qua pure di solito si mettono dentro le case questo gioco mi sta mi sta prendendo un casino mi dico la verità quando era uscito che ve l'avevo portato e nessuno se l'era attenzione no e nessuno ecco ecco uno l'ho sentito da sinistra stanno da sinistra adesso cercano di arrivare dentro perché se no se non riusciamo ad arrivare dentro poi mi frego magari arriviamo dentro e poi gli frego io se cercano di rientrare ok siamo dentro sono al limite molto al limite mamma mia attenzione qua sopra non c'è nessuno qua non ce la faccio sai aspetta vai e dai ok proviamo a salire sulla torre magari riusciamo a beccarci pure qualche cosa potrebbe essere una buona postazione però guardate per poco se non è fatta apposta per poco non stiamo all'interno del cerchio dai se no mi fermavo proprio qua non c'è niente c'è una valigia però la dietro c'è qualcosa le munizioni si sono già fregate ah un bel cecchino però già ce l'abbiamo sta succedendo ok ah questo è il semiatomatico però si però io ho visto qualcosa attenzione o non li vedo tengo sto cavolo andiamo all'altra parte no non ci stanno ma dove cazzo secondo me stanno a sinistra da qua a qualche parte ma dove stanno ah vai vai andiamo tra 20 secondi ci potremmo mettere pure qua dentro tipo aspetta aspetta proviamo a metterci un attimo da qua e dai che palle aspetta aspetta ok ok mi metto così veloce così almeno riusciamo a proteggerci oh non vedo nessuno cioè incredibile non ho visto ancora nessuno ah aspetta che forse niente ci sta vabbè mi sa che ce ne dobbiamo andare non c'è manca molto materiale qua dobbiamo stare attenti eh ok devo stare attento ok la casetta ce la facciamo un pochetto grazie per il legname no il bagno no il bagno no ok non ci sta nessuno datele cavolo soffini ma che stai tutti quanti ok il pancino sta scendendo oh aspetta 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 cazzo aia vabbè dai 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 ok sta là l'ho visto sta là ok quindi se riescono un po' anche le bende mi fanno comodo aspetta che mi sta becchiando dove sta dove sta dove sta dove sta ah aspetta sta vabbè mi stavano beccando praticamente su due fronti eh sia a sinistra che a destra eh forse sbagliato dovevo forse dedicarmi un po' meno alla costruzione un po' più alla cosa vabbè ok ragazzi spero che questa partita vi sia piaciuto come naturalmente al solito vi dico sempre che quando gioco online vi avverto sempre su instagram faccio sempre un post così ma dai se ci siete possiamo sempre giocare insieme naturalmente vi faccio un bel commento un bel piace fatemi sapere la vostra non ci vediamo nel prossimo video e bye bye